ragazzi io dopo anni sono giunto a questa conclusione che il mercato della Lazio va preso com'è bella ragazzi qua è ghiotto siamo in un nuovo video di calcio mercato Lazio mi raccomando vi ricordo 400 like se volete ogni giorno un nuovo video aggiornamento appunto sull'agonia laziale io la chiamerei così ormai perché veramente è un mercato che era partito con premesse ottime e sta finendo in maniera veramente strana adesso ne parleremo con calma vi ricordo ragazzi ovviamente di iscrivervi al canale di seguirmi su instagram che è possibile anche abbonarsi al canale vi ricordo che sono partite due sere per gli abbonati i pronostici e gli aggiornamenti del mio fantacalcio è recuperata anche la live di ieri sera con Alfred in cui abbiamo parlato approfonditamente di tutti i temi appunto del calcio mercato allora ragazzi le notizie fresche di oggi di questi giorni sono le seguenti allora la prima riguarda Wesley Hutt giocatore che già militato nella Lazio fu ceduto al Southampton per una cifra molto alta 17 milioni per un giocatore che alla Lazio non ha mai brillato particolarmente mi ricordo che negli ultimi mesi della sua esperienza laziale stava cominciando a ingranare un giocatore che era sovenduto a una cifra alta ma era ancora giovane adesso ha 26 anni quindi comunque è diciamo nel pieno della sua carriera anche se viene da un paio d'anni sicuramente in cui ha giocato poco e non ha mostrato tutte le sue qualità perché io comunque su 8 riconosco che è un giocatore interessante la situazione la Lazio ha messo gli occhi su Wesley Hutt che è un difensore mancino ricordiamo però un giocatore lento quindi nella difesa 3 secondo me andrebbe a ricoprire il ruolo di vice a Cerbi a meno che non si decida di spostare a Cerbi a sinistra e giocare con Hutt al centro ma ipotesi che io comunque escluderei o meglio in alcune partite a Cerbi lo può fare diciamo l'esterno tra virgolette a sinistra già l'ha fatto ma difficilmente sarà un'opposizione occupata stabilmente da dal leone in questo momento il titolare a sinistra ce l'abbiamo che è Stefan Radu è 20 anni tra un po' che giochiamo con Radu da quando sono piccolo che ho iniziato di fare a Lazio c'è Stefan Radu e non molla mai quindi a Radu gli mandiamo un bacione e teniamocelo stretto però diciamo che avere un altro da affiancare a lui anche più forte non sarebbe male c'è la situazione Vavro da monitorare che ha questa pubalgia e potrebbe essere non inserito nella lista quindi in quel caso lì Hutt andrebbe a prendere il posto di Vavro come vice a Cerbi la formula il Southampton vorrebbe un prestito oneroso con obbligo mentre la Lazio chiede un prestito va bene oneroso ma con diritto di riscatto sui 5, 6, 7 milioni il Southampton chiede ovviamente io l'ho detto il mio parere è che Hutt è un giocatore che io non capisco molto l'operazione perché un giocatore che già ha avuto non è nello stile della Lazio andare a prendere giocatori che già hanno vestito la maglia bianco celeste però se Inzaghi ha richiesto questo Hutt se pensano che sia l'uomo in più un nome low cost me lo faccio andare bene però non con obbligo di riscatto perché comunque un giocatore incognito che ripeto nella difesa 3 non ha mai giocato e alla fine è una riserva di a Cerbi perché io ripeto a sinistra Hutt è troppo lento non può giocare quindi prendiamolo ma con diritto di riscatto probabilmente si chiuderà perché comunque l'affare sembra vicino con un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni la condizione potrebbe essere che la Lazio si riqualifichi per la Champions quindi mi viene da dire se arriviamo a quarti vuol dire che Hutt ha fatto bene di conseguenza in teoria dovrebbe essere così e allora ci sta che tu lo riscatti e vabbè mi potrebbe anche andare bene mettiamolo così però ripeto è un'operazione che non mi esalta assolutamente ditemi ovviamente la vostra nei commenti però ragazzi a me l'operazione che più mi lascia perplesso riguarda Ose Maria Calleon perché è un giocatore vecchio 33 anni e noi ragazzi tra le sette sorelle siamo la squadra più vecchia abbiamo tantissimi giocatori over 30 lasciamo perdere Immobile 30 anni ma Cerbi 32 anni Radu 34 Lulic che vabbè non è inserito in list 34 Parolo 35 lei va 33 poi lasciamo perdere Reina vabbè che è un secondo portiere però abbiamo tanti giocatori avanti con l'età quindi c'è bisogno di svecchiare la rosa perché sennò ti ritrovi tra un anno che devi cambiare 6-7 giocatori perché sono tutti vecchi quindi Calleon è un'operazione che non capisco Reina è un giocatore diverso, una riserva ma Calleon invece è un'operazione comunque costosa perché lui chiede un biennale, 2 milioni e mezzo, 3 milioni ma poi ragazzi Calleon è il 3-5-2 potrebbe giocare largo al posto di Lazzari ogni tanto però comunque anche contando l'età non è un ruolo che può ricoprire secondo me alla perfezione potrebbe essere un armo in più per cambiare modulo un 3-4-3 che Inzaghi sta provando va bene fin qua potrei dire ok Calleon a 0 si può anche prendere però quando io sento dire per l'arrivo di Calleon bisogna cedere Caicedo qua io mi incazzo come una bestia ragazzi perché cosa facciamo? perdiamo un attaccante, un usato sicuro uno che può garantire gol, può fare la prima punta, la seconda punta poi Caicedo lo conosciamo tutti abbiamo imparato ad apprezzarlo e prendiamo Calleon quindi ci ritroveremo con Correa immobile con Murici che è fermo causa Covid si dovrà poi integrare con la squadra quindi Murici tenete conto che per un mese non ce l'abbiamo io spero di rivederlo dopo la sosta adesso abbiamo tre partite sicuramente Murici non ci sarà speriamo, incrociamo le dita di rivederlo dopo la sosta ma non è detto perché vediamo come si evolve la situazione poi ripeto, il giocatore è nuovo si dovrà integrare sarà indietro anche con la preparazione il giocatore è anche pesante quindi non è come Laser che in un attimo è pronto ci vorrà un po' di più per ingranare quindi rischi di ritrovati con solo due attaccanti Calleon che nel 3-5-2 l'unica posizione in cui può giocare è largo a destra non può giocare nei due attaccanti là davanti Calleon non è il vice Correa non mettetevi in testa che Calleon è un vice Correa perché Calleon è un giocatore totalmente diverso da Correa è uno che deve giocare sull'esterno perché la caratteristica principale di Calleon non è la tecnica è la velocità le doti di inserimento, il sacrificio quindi l'operazione Calleon in Kaiseido out ragazzi è un'operazione folle non ha veramente senso se prendi Calleon allora deve essere un giocatore in più che tu dici una soluzione tattica in più va bene Kine me lo rimandi a Salerno me lo rimandi a De Cane e lo mandi in prestito ok però non Kaiseido me lo devi tenere ragazzi occhia a non fare cazzate piuttosto rimaniamo così teniamoci Kaiseido che è un usato sicuro anche perché Kaiseido in questo mese qui serve come il pane perché ripeto Murici non ce l'hai poi magari mi potete dire l'attacco Murici, Kaiseido Correa e Immobile non è assortito benissimo perché non hai diciamo un giocatore simile a Correa hai due giocatori alla fine hai diciamo tre prime punte se andiamo a vedere Kaiseido, Murici, Immobile anche se sappiamo che Murici e Kaiseido sono due giocatori che gli piace svariare sul fronte d'attacco quindi sarebbe meglio avere Murici, Immobile, Correa e magari una seconda punta tipo Keita mi viene in mente che è andata alla Sampa io un pochino rosico vi dico la verità perché tra tutti i ritorni che sono possibili avrei evitato quello di Uth che gli mando un bacio e gli voglio bene ma avrei preso Keita Balde quindi diciamo che Uth me lo faccio anche passare ma l'operazione che mi dicono che è Kaiseido Out che è a Leone in assolutamente non la provo perché ricordiamoci che la Lazio deve vendere per comprare quindi anche Uth arriverà se Bastos verrà venduto che anche qua ieri non si è allenato e tre mesi che deve andare via ancora non riusciamo a cedere Bastos a due milioni cazzo cioè la Lazio sulle cessioni sta facendo veramente una fatica in mane peggio che negli acquisti che già negli acquisti ci fa veramente smadonnare ma nelle cessioni ancora peggio quindi ragazzi io sono veramente perplesso esasperato non vedo l'ora inizio il calcio giocato sabato almeno boh ci concentriamo sul calcio sperando di non sclerare di non dover fare già sfoghi e almeno ci distacchiamo un po' da Calcio Mercato che veramente era iniziato bene no vi ricordate era uscito il nome di Silver era uscito il nome di Combulla a giugno già il nome di Combulla che sembrava fatta Escalante l'avamo già preso fare semurì ci sembravano già presi poi ci abbiamo messo un mese lasciamo perdere ecco ragazzi io vi invito a mettere un like a condividere il video mi raccomando commentate con la vostra opinione ovviamente e ragazzi fatemi un piacere anche seguitemi su Instagram è che dobbiamo crescere anche lì quindi primo link in descrizione dai ci vediamo più tardi perché vedete che sto portando un video verso le 14 un video più tardi alle 18 perché ho visto che vanno bene vi stanno piacendo quindi se ci sono notizie anche di Calcio Mercato di altre squadre vi farò un video più tardi se no per oggi niente ci vediamo poi domani con nuovi contenuti ok ciao ragazzi bello